ciao a tutti ragazzi ben ritrovati di nuovo fallout sono bardato sotto un'armatura da combattimento e una gamma da sintetico attenzione e ho ripreso il mio buon vecchio cappello da capitano e dato che questo cappello da solo ci da due di costituzione non credo che lo toglierò più perché due di costituzione è davvero tanto comunque piccolo riassunto dopo aver salvato quell'insediamento presto e merito ne abbiamo così tanti che non riusciamo più a comunicare tra loro andiamo conquistarsi il castello che così riusciamo a comunicare con tutti col trasmettito e radio che è potente come radio maria il problema è che dobbiamo farsi un assalto quindi lo conquistiamo se o no io da bravo coglione gli ho detto sì così è scappato è scappato è andato al castello da solo e con tutti i materiali che gli ho dato quindi mi tocca per forza fare l'assalto al castello anche se mi sembra di essere un po come dire neanche sotto armato sono un po troppo indietro si nel nell'esplorazione sono indietro però nelle armi sono messo bene tipo aspettate perché perché ha ecco solo carabine da combattimento automatica che è bella dopata fucile da combattimento che si è noti sciotta e la camperona che adesso va coi proiettili da sin calibro 50 quindi mai scherzare con quella ho messo via il moschetto laser perché stavo consumando tre o pezzo di diffusione e me ne sono rimaste 50 ea colpo io ne sparò di sparò 5 alla volta quindi le sto un po troppo usando quindi ho cambiato fucile per anche per lasciarlo riposare un po ma non è come dire è un po è piuttosto debole rispetto a rispetto a come si chiama rispetto al mio moschetto laser però non è che non era così rilevante come pensavo o finalmente siamo arrivati che cavolo era un'eternità a nuoto ancora di più a piedi ok sono presto un bell'esercito due tre persone mina fermentazione mi servono simpa che mi serve c'è la diffusione mi serve tutto mi serve qui presto un volevi cazzo siamo in tre il castello di marzapane più che altro adesso si guarda come ammesso ammetto che ha visto giorni migliori non hanno mai evitato un duro lavoro che faccio sempre io rimario è ripulire il cortile è lì che dovremmo incontrare la maggior parte della resistenza le mura su questo lato sono le più esposte ma se giriamo a sud potremmo raggiungere anche il cancello principale che stiamo aspettando entriamo e facciamo fuori quelle aragoste no se ci dividiamo possiamo prenderli sui fianchi da entrambi i lati sarà un gioco da ragazzi perché non li facciamo avanzare verso di noi creiamo una linea di fuoco su questo lato e tu li attiri allo scoperto allora generale che ne pensi l'ho già fatto e vi dico una sola cosa attirateli gli sterminati in pochissimo tempo e la madò devo attirarli si parte che basta che ne attiri due a due non è che serve che li prendi tutti e dopo gli dispare a tutti e ne prendi due tre i tre fuori gli ammati 23 fuori ammati quel tre fuori amma e così finché non vinci ammesso che sia così semplice cosa che non sembra sia in sopravvivenza completutino moschetti laser qua sembra è un'identificazione io l'ho messo via al mio perché se non buttavo via troppe robe si granchioni arriva giapponesi giapponesi fa sushi gli stanno massacrando pensavo massimi se me fa cagare devo fare tutto io no porca troia hanno sterminato uno in tre secondi azzopatelo fallo fuori sparate di un colpo così vi da l'esperienza se no non me la da se gli fate anche tipo uno di danno ma li uccidono gli altri a essi no questo cos'è la commessa come è voleva chi è che mi ha salvato grazie presto ho sempre contato in te grazie no azzoppalo o se sono su leggendari mi raccomando azzopateli che vanno vanno a zero di velocità sono stan fermi così tutto il tempo per massacrarli si tool in fondo e staremo sterminando i maier lurk tu sei un maier lurk vero fa la carica quasi divertente finiti è gente che spara da dove spa emma la madonna me l'aspettavo mi ha fatto da oddio non mi ha colpito forse finiti essi e guardalo la guarda lola ma perché c'era così intorno ma stiamo a saltarsi tutto vieni giù vieni giù dove la faccia tessic testa 46 preferisco dicevo sono un po troppo esposto gambe destra così ciao a mamma dopo il cavolo che li sottiamo big gym con le parole di maier lurk sono sempre efficaci o pestato è un cosa vuoi fare come un'altra parole di maier lurk andate avanti una parola una parola una parola ci penso io ci penso io mi piace ammazzare i piccoli bastardi come questo un altro dicevo mi piace far fuori piccoli bastardi come questo e lascialo a me chi è che l'ha ucciso non ti senti bene fatica ma che è sta scusa e gli ho tirato una randellata sulla caviglia scusa 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 spero che tu capisca ok distruggere le uova semplice cos che cazzo è quello ma che minchia è quello oddio noi gli facciamo una sega a noi mi pupa gli ho fatto danno pupa no 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 sto parlando con tua madre e meno penso che sia so oh merda 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 ce l'ha con me ce l'ha con me ce l'ha con me ce l'ha con me ce l'ha dai insomma fatto meno stavolta ho salvato prima così non serve che mi rifaccio tutta la strada dell'inizio stavo dicendo è appena uscita la regina dei ma eccola lì guardate il carino che carina sta micchia vada boom e l'ho buttata male to e un'altra e un'altra non avrei pietà dalle mie granate fuck mi ha visto 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 fanculo i maier look ops l'ho detto in faccia ho un'idea dentro gli edifici dentro l'edificio dentro l'edificio dentro l'edificio non mi prenderò mai c'è nel senso non viene a prendere almeno dove è o camperiamo mister l mi serve il tuo aiuto e io io lo sto beccando sul guscio bravo porca tro no mi ha sparato l'acido allora mi ha visto quella troia c'è quella quella ops mi sa tanto che mi ha sentito ma basta con queste parole di merda ebba oh mado si fanno fanno un cazzo di danno però ma volete le botte voi piccoli bastardi e mi tocca andare a pugni mi danno i parassiti tra un po ma non per scherzo veramente questo un garvi li sta un po prendendo regina regina porca avete visto mi stavo sport mi sporgevo ancora un secondo in più no no a zoppatela a zoppatela dobbiamo a zopparla e vedi volete che c'è un tesco vicino al nome vuol dire che di livello decisamente più alto del mio dov'è vabbè tanto no di munizioni di sta qua vorrei usare il fucile ma non posso andare così vicino basta con queste parole di merda non via state poco poco 70 minuti ma sono invincibili mi ha visto mi ha visto mi ha visto alle gambe e via avete rotto le palle non è che ne ho anche di spalle non è che ne ho anche di spalle e vedete che mi è arrivato un bel in avvelenata in faccia guardate che palle e vedete vedete vede acido beh di munizioni non sono accorto questo poco ma sicuro dove la regina dove l'ho buttata aglio fatto danno però le basta con ste pro merda presto un gare viene i guai ah tentava di buttarmi di buttarmi l'acido però si è reso conto che ah guardate com'è ops eh sì 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 sono solo di passato oh l'ho fatto fuori eh sto cazzo ai che acido levatevi dalle le palle ah l'abbiamo fatta fuori che culo si festeggiamo mi schifo l'acido eh sì sì invece cazzo c'era difficile munizioni artigianale torace di armatura ma che è ah l'armatura torace di solido questo sì che figo va bene e vai ok alimenta il trasmettitore come faccio ad alimentarlo oh vedete che adesso funziona parla con presto un gare vi dove sei sei contento che mi hai fatto perdere tempo per questo siiii festeggiamo però mi rompe le palle comunque no questo mi fa ricordare che c'è un'altra zona calda pezzo di merda cosa ma sono appena sono appena uscito da green top nursery scusa scusa hai bisogno siii ho bisogno veloce hai i miei materiali pezzo di merda ma scu ok ma che cazzo dai vi ho appena aiutati eh ma ma ah cacciarli pensavo li avessi tutti si si vabbè vaffanculo ah devo aspettare adesso devo aspettarmi che ci attacchino quindi in culo la prendiamo che vita di merda non ho una subito subito non ho una sega per cui con cui difendermi e qua non c'hanno neanche i letti neanche i letti non c'hanno aspetta che guardo no no cioè dai come fate e qua vedo qua dai che vedo diciamo tutto togliamo il tavolo e anche il cesso facciamoci un letto che mannaggia a voi mobili letti eccolo qua no si hanno i letti ma hanno i materassi cazzo con materasso io non posso dormire ho bisogno di dormire in un posto comodo come se è un letto cazzo adesso arrivano i super mutanti ce lo piantano in lì e dopo si che sono pacche ah bene neanche fame non ho presto 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 qui qui presto ma porca troia metto un letto fuori come per dire allontanati non serve un cazzo ma vabbè sca una scatola lascio magari io un po hanno come dire dove difesa posta santa ma porca troia hanno un lanci entra una armatura veloce vai 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 armatura armatura vaffanculo penso io eh oh ti muovi te o mi muovo io venite fuori mi sto aspettando dov'è venivano da qui non sbaglio e badaboom mi ha fatto male aiuto a difendere i green top nursery avete visto quanta vita sete ok no spero 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 inutilizzabile giù giù sta giù sta giù sta giù sta giù e porca puttana ah perché 53 azzopatelo 2 vieni qui per fortuna che il vetro è tipo antiproiettile di questo qua mi raccomando state state lontani dal tizio con la cia con la ma da dove guardalo che mi punta questo riusciti vese ma vaffanculo non servono uno in caso fate fuori lui fate fuori lui per primo eccolo là è andato pensi sia l'unico eccolo là il secondo bastardo ah ah ti ho visto aspettati una cecchinata stoppati porca trò quanti sono non è possibile vincere contro questi gli ho fatto male in testa però gli ho fatto tanto male state riparati dove dove quello debole eccolo debole ormai via riparato che è successo ah mi sa che hanno finito i proiettili hanno finito i proiettili per fortuna ma cosa stai facendo vecchio cioè giovane mi dispi so no l'ha fatto fuori ah no ancora vivo è perché una volta mi è morto uno parla con la gente di questo luogo porca troia voi siete delle no cioè dice per mutanti non vuoi abbiamo vinto non ce l'avremmo mai già ma sbaglio i capelli azzurri sto qua sembrano quasi 100 tappi minchia dove sono gli altri cadaveri che mi serve una cia missili da riciclare per farci su esatto parla con pressione ravi dammi un secondo ce la faccio ce la faccio anche se è stato aiuto come non sto registrando cos'altro hai per me presto ricevo richieste d'aiuto dagli insediamenti di abiso si la prima volta che ti dice se la prima volta che non ti dice un altro insediamento ha bisogno del tuo aiuto si l'abisodio finisce qui è stato un po' cortino lo so peccato però mi ha fatto fuori una regina dei maier quindi c'è solo da festeggiare ci vediamo al prossimo episodio e ciao a tutti ragazzi alla prossima